4 litri di un cambio d'olio se lasciati dispersi nell'ambiente possono inquinare una porzione di mare grande quanto un campo di calcio, è fondamentale, è fondamentale non buttare nemmeno un piccolo residuo di olio lubrificante esausto nel terreno, nelle falde, è fondamentale, il messaggio è che noi ce la stiamo mettendo tutta, qualche buon risultato arriva, basta un piccolo gesto anche dall'altra parte. Il corretto smaltimento dei lubrificanti usati è un semplice gesto di responsabilità che assume per l'ambiente un significato enorme perché da rifiuti pericolosi e altamente inquinanti possono essere rigenerati e trasformati in risorsa, reimmessi sul mercato con le stesse qualità di quelli nuovi, ad occuparsene in Italia è il consorzio obbligatorio degli oli usati che dall'84 ad oggi ha consentito di risparmiare circa 3 miliardi di euro sulle importazioni di petrolio. Riutilizzare vuol dire non soltanto produrre questo olio nuovo ma anche recuperare per quel prodotto raccolto che non può andare a rigenerazione la capacità energetica. Alla fine noi avremo un recupero totale delle quantità originarie, in pratica di 100 chili che entrano in una raffineria ne escono 100 di prodotti commerciabili e questa è un po' una cultura che gradualmente dovrebbe interessare un po' tutti i prodotti. A Napoli nel 2014 oltre 7 mila tonnellate di oli lubrificanti usati sono state raccolte e avviati a rigenerazione grazie ad un'efficace campagna educativa Circoliamo che il consorzio promuove in tutti i capoluoghi di provincia coinvolgendo i ragazzi delle scuole. Questa mattina il villaggio ha fatto tappa in Piazza Dante dove sono state presentate anche le tre nuove isole ecologiche adibite al conferimento degli oli usati a seguito della convenzione tra comune e consorzio. Le tre isole ecologiche iniziali, Saverio Gatto, Via Salgheri e Viale della Resistenza sono tre punti diversi della città con un'altra novità anche in questa aperta anche il sabato e la domenica in modo da venire incontro ai cittadini che magari fanno piccoli lavoretti in economia si possono regare alle isole ecologiche in piena libertà il tutto è assolutamente gratuito. Se ognuno fa un piccolo pezzo noi co-generiamo un servizio e questo vale per tutto sia per il gesto della raccolta sia per il risparmio delle risorse naturali e sia per aiutarci a contribuire nella raccolta differenziata.